Buongiorno a tutti da Tripoli, sotto le bombe. Prima di tutto scusate, scusate tanto se non sono presente con voi a Bruxelles per l'inaugurazione della mostra Gli occhi della guerra che mi sta particolarmente a cuore. Sono qui in Libia per cercare di fare il mio lavoro di giornalista, per cercare di rispettare anche il significato stesso di questa mostra Gli occhi della guerra che rappresenta 30 anni di reportage fotografici non solo miei ma anche di Gian Michele Singh e soprattutto di Almerigo Grils a cui la mostra è dedicata. Ma permettetemi di ringraziare un amico che ha fortemente voluto questo evento Marco Scuria che non solo l'ha voluto ma ci ha creduto. Ci ha creduto anche prima di diventare europarlamentare. Per questo lo ringrazio di cuore. Ringrazio anche tutti i presenti all'inaugurazione anche se da Tripoli, da qualche migliaia di chilometri, centinaia di chilometri di distanza. Perché gli occhi della guerra? Gli occhi della guerra perché sono quelli di quel bambino soldato che è la prima foto che abbiamo scelto per la mostra che ho scattato tanti anni fa in Uganda. Perché gli occhi della guerra sono quelli dei prigionieri che abbiamo incontrato che magari non avevano speranze e che abbiamo immortalato forse per l'ultima volta. Perché gli occhi della guerra sono le pupille di un ferito che con l'ultimo anelito di vita ha ancora attaccato alla vita. Perché gli occhi della guerra in fondo siamo anche noi giornalisti che facciamo questo mestiere difficile, duro ma appassionante. E come ho detto all'inizio questa mostra è dedicata non solo a un giornalista ma a un grande amico, quasi un fratello per me, che si chiamava Almerigo Grils e che è morto il 19 maggio 1987 in Mozambico. È stato il primo giornalista italiano a morire su un fronte di guerra, sul fronte dell'informazione. E io, in nome di Almerigo e di tutti gli altri caduti sul fronte dell'informazione, sia italiani che stranieri, che facevano questo lavoro, il lavoro del giornalista di guerra, che vi ringrazio di nuovo. E spero magari di poter tornare un'altra volta a Bruxelles a vedervi tutti assieme e di potervi raccontare anche questo ultimo difficile reportage qui a Tripoli sotto le bombe. Grazie a tutti.